Con la sua poetica, basata sull'uso paradossale luce e sul punto di vista della prospettiva, Giorgio De Chirico ha scolpito profondo solco nella storia recente arte, diventando un modello per i colleghi nei suoi tempi, che ha identificato esempio in Intoseguire al fine di dare forma ad Avantgarde che è diventato storico. Giorgio De Chirico.Tapisica, curata da Victoria Noel Johnson, riunirà 71 opere da cui i principali soggetti di De Chirico emerano come manichini senza volti, i quadrati dell'Italia, gladiatori e gli interni ferraresi. De Metafisica guidati da un incessante desiderio sperimentazione, De Chirico non abbandonarono mai l'ispirazione metafisica, che ritorna ribalta durante stagione neometafisica, cui fondazione Giorgio Isade possiede collezione più completa al mondo, protagonista una grande attenzione nell'imminente mostra con Ejano.Dipingere al disegno. Da acquerello alla litografia scultura, influenzando non solo sul realismo, ma anche il dadaismo, realismo magico, pop art transavagaria, mantenendo intatta l'attualità del proprio stile. Come sottolinea il curatore elaborando sistema pittorico di precisione matematica che distorce la realtà, l'artista produceva di isolamento enigmatico o costrizione disturbante.Pervas da un presagio angosciato, l'atmosfera, del suo dipinto mira a suscitare senso di sorpresa, scoperta e rivelazione. Immagine di apertura Chirico, The Disturing Muses, 1974, Olio su tela, 50X 65cm, Origin Giorgio e Isa de Chirico Foundation, Chirico, DCI 20230202.